Siamo presso la struttura dell'OPA di Diaceto nel comune di Pelago, l'Opera Diocesana Assistenziale, un centro di riabilitazione per pazienti neuropsichiatrici. Qui su 71 ospiti della struttura sono stati riscontrati 14 pazienti positivi al coronavirus e 16 sintomatici. Ne parliamo con il sindaco di Pelago, Nicola Povoleri. Ecco, per ora, come stanno evolvendo le cose sui pazienti in questo momento? Allora, diciamo che dei 14 pazienti positivi, 2 sono stati ricoverati in ospedale, gli altri 12 sono presso la struttura. Le loro condizioni sono stabili. La struttura si è prontamente adoperata, intanto a osservare tutte le prescrizioni dell'ordinanza 21 della Regione Toscana, che prescrive i trattamenti per RSD e RSA. Siamo in contatto costante. Abbiamo, insieme alla struttura, dato un piccolo contributo anche a creare uno spazio nella villa, una struttura adiacente alla struttura, per tutti gli operatori che la sera decidessero di non rientrare a casa e si possono fermare a pernottare. ASL e Comune hanno attivato i tamponi che si concluderanno nelle prossime ore. È stato organizzato dal Prefetto un tavolo tecnico con focus su residenze sanitarie per anziani e disabili con ASL e Forze dell'Ordine. Per capire come rispondere a eventuali situazioni di emergenza che si potranno creare in tanti comuni della provincia fiorentina in cui ci sono in questo momento delle difficoltà. In questo momento la Prefettura ha un supporto fondamentale e sta svolgendo a pieno un compito di grandissimo sostegno rispetto a realtà locali. Come stanno rispondendo i cittadini di Pelago e di Aceto? In questo momento stanno esprimendo tanta vicinanza alla struttura che è conoscitissima, a tanti operatori che sono per la maggior parte persone del luogo e sta rispondendo come io mi aspettavo, nel modo migliore di sostegno rispetto a persone che stanno svolgendo un compito in questo momento un po' più pesante del solito. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi.